Nella lezione precedente abbiamo visto come lavorare con il riempimento in base al contenuto per nascondere delle parti della nostra scena, del nostro filmato, utilizzando una sorta di maschera in movimento che possiamo animare sia manualmente sia utilizzando il tracciamento del movimento, quindi il pannello tracciatore, che possiamo anche utilizzare per stabilizzare i movimenti. Quindi abbiamo fatto appunto una serie di esempi riguardanti sia la stabilizzazione di un filmato sia il tracciamento del movimento e abbiamo visto anche che appunto utilizzando il tracciamento possiamo animare il timbro clone e quindi nascondere anche elementi in movimento. Quindi possiamo lavorare sia sul movimento della camera e utilizzare il timbro clone per duplicare o nascondere utilizzando appunto il movimento della camera o anche il movimento dell'oggetto stesso. Oppure possiamo utilizzare delle maschere animate e il riempimento in base al contenuto. In questo video continueremo a parlare di maschere e l'utilizzo appunto di strumenti per il fotomontaggio, il fotoinserimento e anche la possibilità appunto di nascondere e mostrare elementi appunto con le maschere. Una cosa da tenere conto è che mentre noi lavoriamo con alcuni tipi di effetti vengono salvati appunto come abbiamo detto dei dati per velocizzare il lavoro all'interno di After Effects. Qui possiamo vedere una cartella che appunto appare solitamente nella stessa cartella dove è salvato il progetto con gli autosave cioè con i salvataggi automatici nel caso in cui appunto il programma dovesse chiudersi inaspettatamente. E poi qui vedete che abbiamo per esempio fields che sono i riempimenti che abbiamo utilizzato appunto con il riempimento in base al contenuto. Quindi vediamo fondamentalmente tutta una serie di frame che vengono generati come una sorta di cerotto che va poi ad applicarsi nella parte che andate a nascondere nel video. Riprendiamo quindi il discorso sulle forme vettoriali e in particolar modo sulle maschere. Quindi quando io vado a creare una forma, in questo caso già come vedete ho inserito un video e posso già vedere l'animazione del video. Posso decidere appunto se creare una maschera e come vedete se seleziono il video vado a creare una maschera, se invece non seleziono nulla, quindi esco dalla selezione del livello del video, ho la possibilità di scegliere se creare una maschera o una forma. Quindi in questo caso vedete che vado a creare una forma, ma posso poi fare una switch e andare a creare una maschera. La maschera nasconde tutto ciò che c'è, in questo caso al di fuori di essa, ma posso anche appunto come abbiamo visto invertirla in qualsiasi momento e posso anche effettuare quelle che possiamo chiamare delle operazioni booleane, cioè aggiungere altre maschere o sottrarle e via dicendo. Qui ho il pannello delle proprietà fluttuante, lo vado ad agganciare, attenzione in quale spazio di lavoro siamo, nel caso del video precedente infatti eravamo nel tracciamento del movimento, e qui però possiamo anche ritornare diciamo alla grafica standard e quindi semplicemente mettiamo standard, in modo da tornare appunto alla classica interfaccia di After Effects. Vediamo che altro possiamo fare con le maschere, per esempio abbiamo visto che possiamo aggiungere una sfumatura, quindi se io vado a prendere una maschera ellittica e la vado a posizionare sul mio video, in questo modo, quindi cerco di portarla, come vedete, lungo le estremità e poi modifico anche nelle impostazioni della composizione lo sfondo, mettiamo per esempio uno sfondo nero. Se vado a prendere nei comandi della penna e della modifica vettoriale il bordo sfumato della maschera, quindi clicco per aggiungere sulla maschera il bordo sfumato, clicco e trascino, ottengo quello che viene chiamato in fotografia l'effetto vignettatura o vignetting. Quindi posso appunto andare a creare degli effetti che in questo caso mi mostrano leggermente quello che c'è dietro e in questo caso uno sfondo nero. Io posso anche modificare lo sfondo della composizione o aggiungere un livello tinta unita, come abbiamo fatto anche precedentemente, con le dimensioni della composizione e in questo caso voglio farlo, quindi il livello nero di sfondo per poter lavorare appunto con quell'effetto di sfondo nero. Un altro effetto che possiamo realizzare, per esempio utilizzando proprio questo livello nero, sempre con le maschere, è una sorta di effetto binocolo o serratura. Quindi parto e creo il mio primo oggetto che come vedete va a mascherare di nuovo in questo caso il livello solido, ma voglio sicuramente invertirlo e quindi vedo solamente quello che c'è all'interno della maschera. Di nuovo posso decidere se deformare la maschera, doppio clic, se voglio invece agire su tutto l'oggetto intero, quindi su tutto il percorso, non solo su un punto, aggiungo di nuovo una sfumatura perché sicuramente aiuta se vogliamo realizzare appunto questa sorta di effetto binocolo. A questo punto ho bisogno di un'altra maschera, invece di crearne una nuova posso anche utilizzare ctrl d e duplicarla, oppure con modifica vado a trovare il comando qui all'interno duplica del menu. Ok, a questo punto ho due maschere, però una delle due la voglio spostare ovviamente lateralmente. Posso farlo anche direttamente dai comandi del tracciato e della trasformazione. Ok, la sposto lateralmente, cliccando semplicemente, tenendo premuto maiuscolo o shift, la posso spostare tenendola allineata. Ok, che succede in questo caso? Che le due maschere si vanno ad aggiungere e ottengo appunto questa sorta di effetto spioncino. Tutto dipende da come noi gestiamo queste impostazioni che vediamo qua. Quindi in questo caso vedete che se disattiviamo invertito, entrambe vengono visualizzate in questo modo. Se vado su sottrai, adesso sto sottraendo la prima maschera, se vado su sottrai, sottrago anche la seconda maschera. Facciamo anche una terza maschera, questa volta facciamo qualcosa di diverso, per esempio un rettangolo. Attenzione, vedete che in questo caso è una forma, quindi mi assicuro di aver selezionato l'oggetto e poi clicco. Ok, vedete che quest'altra forma va in aggiunta e di nuovo posso sottrarla, posso intersegarla, quindi rimane in questo caso solo la parte in comune. Posso schiarire, scurire e fare la differenza. Quindi ho una serie di operazioni che vengono chiamate booleane. Se metto nessuno invece non ci sarà alcuna interazione con le altre maschere. Posso anche selezionarla e cancellarla con elimina. Ora, se voglio, posso anche animare queste maschere, abbiamo detto sia utilizzando i tracciati, quindi voglio per esempio animare il tracciato di questa maschera, quindi posso fondamentalmente andare a lavorare sia sulla sfumatura, sia sulla maschera stessa, sia su tutta la forma facendo doppio clic, facendola più piccola o più grande. Tutti questi movimenti vengono registrati nel fotogramma chiave, quindi se mi sposto più avanti, ritorno per esempio a spostare un po' la maschera verso l'alto, poi la sposto magari un pochino verso il basso e quindi ottengo questo effetto animato. Se voglio posso anche selezionarle entrambe e lavorare appunto con tutte e due le maschere. Voglio farle un pochino più piccole e se voglio animare diciamo questo come un'intera mascherina, a quel punto andrei a lavorare sulla posizione di tutto il livello. Quindi vado ad agire appunto con tutto il livello. Se lo sposto però, che cosa succede? Che ovviamente avendo le dimensioni della composizione, quando lo sposto vado a velare quello che c'è dietro, quindi devo ingrandire.